ehi la turma io sono mazietes e benvenuti in questa nuova recensione che in un certo senso è un po come fosse una continuazione della ludonarra con 2021 perché il gioco di cui parleremo svobo da 1945 liberation era presente con la sua demo durante la ludonarra con 2021 infatti l'abbiamo provato in live e potete trovare le mie prime impressioni sulla live sul canale twitch il gioco esce appunto adesso 3 agosto 2021 e sviluppato da charles games che è questo piccolo studio nella repubblica cieca che si occupa di fare dei giochi che siano in un certo senso una rievocazione storica ricordare e tracciare delle vicende veramente esistite con un po di romanzo intorno ok ma per parlare di situazioni della seconda guerra mondiale soprattutto appunto della loro zona della repubblica ceco della cecoslovacchia come era in quel periodo quindi dell'occupazione nazista e via dicendo il loro gioco precedente attentat 1942 era molto bellino l'ho giocato dura poco e si occupava di un attentato appunto successo durante l'occupazione nazista nel 1942 mentre invece svobo da 1945 liberation il gioco di cui parliamo oggi si occupa della situazione alla fine della guerra per cui sia delle ultime battaglie sia della caduta del terzo Reich sia della liberazione della germania e la conseguente conseguente esilio forzato dei tedeschi che vivevano in cecoslovacchia al momento della liberazione dal nazismo questo attraverso le vicende di vari personaggi che troviamo all'interno del gioco come attentat 1942 svoboda è un gioco basato principalmente sul full motion video abbiamo degli attori cecoslovacchi che parlano in cieco sottotitolato in inglese e noi abbiamo possibilità di interagire scegliendo i dialoghi con cui rispondiamo che ci manderanno delle altre parti di video registrazione ci troviamo nella narrativa ci ci vede come un ispettore che è interessato a scoprire cosa è successo nella scuola di svoboda nel periodo sia dell'occupazione nazista che successivo quindi anche del periodo della liberazione e dei primi anni del comunismo dell'influenza della repubblica dell'unione delle repubbliche socialiste sovietiche per scoprire se la scuola è da preservare e quindi trasformarla in una sorta di museo oppure da abbatterla come vorrebbero alcuni cittadini del villaggio quindi incaricati di questo siamo nel 2001 fittiziamente infatti si vede campeggiare in varie schermate un nokia 3310 e andremo a intervistare i vari sopravvissuti insomma o comunque gente viva all'epoca per scoprire cosa è successo in quella scuola e perché appunto può essere valido mantenerla preservarlo oppure non ha sufficiente valore per mantenerla in piedi già subito del primi momenti però ci capita una sorta di non è un plot twist però succede narrativamente qualcosa per cui ci vedrà anche coinvolti direttamente in questa indagine con quello che sono i nostri legami familiari e il nostro passato i nostri antenati tutto questo quindi si dipanna su due linee c'è un filone narrativo di parte più romanzata diciamo che rivede alcuni che torna nel villaggio alcune cose vecchie che si riconciliano e si concludono e appunto questo plot diciamo del scoprire cosa è successo nella scuola quali sono i dati interessanti e alla fin fine portarci a fare una scelta se mantenerla in piedi oppure se dare l'autorizzazione per l'abbattimento della scuola. Tutto questo sì, cioè tutta questa parte in full motion video si intervalla invece con delle parti che sono caratterizzate da fumetti quindi disegnati e con appunto le vignette che servono per rappresentare le situazioni avvenute realmente e intervallato questo ci sono anche delle parti con dei piccoli mini giochi per cui il momento in cui si rievoca la partita a carte durante gli ultimi anni gli ultimi mesi del 45 si gioca realmente a carte con carte dell'epoca c'è un momento in cui bisogna invece aiutare una persona al cimitero pulire rapidi quindi c'è un mini gioco in cui devi pulire, strofinare insomma c'è un mini gioco agricolo in cui simuli i possidenti agricoli sotto il comunismo per cui viene sempre più difficile non aderire alle collettivizzazioni della terra e via dicendo che insieme ai fumetti e insieme ai full motion video alternano piacevolmente le fasi di gameplay. Oltre a questo ci sono molti 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 video dell'epoca che rappresentano un po' tutte le varie situazioni quindi sia la gioventù sia la guerra sia il momento dell'esilio dei tedeschi dei documenti davvero ben preservati che vanno a formare un'enciclopedia di informazioni storicamente accurate per darci anche la possibilità di impararne di più di saperne di di quello di cui sta parlando il gioco. Il gioco è molto breve e molto leggero per cui va via in circa due ore e mezza a tre. Ha una discreta rigiocabilità nel senso che si può rigiocare per scoprire insomma le scelte che non sono state fatte perché ovviamente parlando con le determinate persone di alcune cose realisticamente non potremmo poi andare a dire l'opposto. Cioè se una persona ci si presenta dicendo ah no io sono assolutamente parto con l'idea di abbattere la scuola lui avrà magari un determinato reazione mentre invece se dice no no io parto con l'idea di volerla mantenere la scuola magari avrà una reazione completamente opposta per cui ci pregiudichiamo alcune possibilità durante durante la nostra partita per cui una seconda run o una terza run essendo molto breve sono comunque caldamente consigliate per scoprire altre cose sui nostri personaggi sulle loro vite e su che cosa c'è appunto dietro questo villaggio dietro questa situazione appunto del 1945. Tutto questo molto positivo se devo aggiungere due piccole cose su cui non sono stato completamente soddisfatto è che uno gli attori sono tutti leggermente anziani ma diciamo sono su 60 sessantina settantina anche perché ambientato vent'anni fa quindi si suppone che appunto chi aveva 70 anni vent'anni fa era più o meno giovane nel periodo del della fine della seconda guerra mondiale ma c'è poca varietà nel senso che sembrano tutti della stessa età tutti presi della stessa età è una cosa che succedeva anche in attentato 1942 e questo rispecchia un po poco quello che è la differenza di età dei personaggi reali perché uno di uno è tipo un coevo del nonno dell'altro ma sembra che abbiano più o meno la stessa età nel video non so se perché hanno una troupe di attori loro che hanno tutti più o meno quell'età là e quindi cercano di conciliare le due cose però ogni tanto fa un po a pezzi con l'ambientazione perché diceva sono tutti con i capelli bianchi ma uno faceva il soldato all'epoca uno invece era un bambino all'epoca quindi insomma non quadra tantissimo e seconda cosa il finale arriva un pochettino all'improvviso perché il finale della parte romanzata coincide con la scelta del cosa fare della scuola e non me lo aspettavo e sono arrivato là un po all'improvviso cosa positiva è che si può ritornare là per fare gli ultimi dialoghi che si sono persi e rivedere le memorie insomma dei vari personaggi però sono stato un po spezzato perché a saperlo avrei probabilmente ritardato un pochettino ho fatto delle altre cose prima di andare insomma a parlare al dialogo che poi mi ha portato al finale detto questo io gioco lo consiglio assolutamente più che per la sua ludicità per la sua storicità e per il lavoro accurato che loro hanno fatto per preservare queste informazioni per trasmetterle in modo comunque molto leggero può essere anche adatto secondo me da essere presentato a una scuola per mostrare tutte le parti perché sono sia le parti positive che negative di ogni situazione non è che è una cosa anti tedesca o anti comunista o che ci sono state delle vicende ogni volta sembrava che andando avanti si migliorasse la situazione ma insomma una svolta vera e propria a parte il momento attuale insomma non c'è non c'è stata ci sono vengono sottolineati gli errori che sono compiuti da ogni parte che sono stati compiuti da ogni parte non vengono cioè vengono sottolineati sia agli eccidi nazisti come vengono anche sottolineate invece le repressioni brutali una volta che la czechoslovacchia è stata liberata di tedeschi o comunque gente che era in qualche modo legata con i tedeschi ma che non aveva partecipato alle azioni criminali insomma naziste che è appunto quello che è successo storicamente che non c'è un vero bene e un vero male c'è chi ha sbagliato di più e chi è sbagliato di meno magari ma errori sono stati compiuti ovunque e nessun errore è giustificabile detto questo io vi ringrazio per la visione vi vi trovo mi piace un commento qua sotto e ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti e buona giornata